Partito anche il campionato di terza categoria alla delegazione di Catanzaro è stato assegnato il D l'anno scorso erano due C e D quest'anno è rimasto soltanto il girone D perché gli altri sono stati distribuiti nelle altre delegazioni provinciali o locali e allora è partito con tre vittorie casalinghe due vittorie esterne ed un solo pareggio il pareggio è stato quello tra Staletti e Kudufella e Catanzaro 0 a 0 due squadre che sono ritrovate dopo il campionato scorso che le ha viste lottare nella zona alta della classifica ma veniamo con ordine le vittorie casalinghe sono stati stato delle scali pur fronti 3 a 0 contro il serra stretta con i gol di fatti buon signore è donato quella del grifone Catanzaro 4 a 2 all'atletico feroleto con l'iniziale vantaggio della squadra ospite con De Fazio ma poi i gol di Sborfa Fazio, Nisticò e De Luca hanno messo poi in ordine la situazione con Falvo che è riuscito ad accorciare per il 4 a 2 finale l'altra vittoria di casalinghe è quella del Tiriolo contro il Leggiri Falco che è arrivata proprio al novantesimo con Ugrinov per il Tiriolo dopo che era andato in vantaggio con un rigore il Giri Falco con Pallaria ma poi aveva pareggiato Rodella e alla fine il gol come dicevamo dell'attaccante di casa che ha dato la prima vittoria al Tiriolo. In trasferta invece sono andate a vincere la Kennedy 1 a 0 a Maite con il gol di Forleo e il Cortale 3 a 2 a San Pietro Apostolo con l'iniziale vantaggio di Rotella per il San Pietro Apostolo poi i gol di Riga Saraceno per il 2 a 1 il pareggio di Vergata iniziale ma a Riga nel 55 si aveva segnato anche il terzo gol quindi 3 a 1 iniziale poi 3 a 2 finale quindi una prima giornata all'insegna diciamo dei gol tant'è però che se ne sono marcati e tanti ma vedremo poi con il prosieguo del campionato intanto da segnalare che è venuto fuori un bel girone quello della delegazione di Catanzaro con 12 squadre e abbastanza limitato come trasferte e quindi per quello che può valere un applauso da parte nostra anche questa volta alla federazione che è riuscita a fare degli ottimi campionati ribaltando quello che era successo invece lo scorso anno con i campionati di seconda e terza categoria che erano molto ristretti molto molto ridotti e dovevano obbligare le squadre a fare delle trasferte lunghe quest'anno pare che ci siano nuove squadre che sono iscritte e quindi tutto sta tornando alla normalità dopo il periodo critico del Covid ciao 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 ciao